Come è il progetto Extra Vermut? Attraverso il sito di Turismo Torino e anche quello di Camera di Commercio per tutti coloro e quindi in particolare i turisti ma non solo vogliono degustare il nostro Vermut proprio perché sappiamo che il Vermut nasce a Torino quindi per un aperitivo un po' diverso ci sono dei locali che aderiscono che praticamente oltre a far degustare tre tipi di Vermut differenti raccontano anche un po' la storia dell'Extra Vermut. E viene abbinato insieme a questo Vermut una serie di piccoli antipasti per l'aperitivo ma sempre di prodotti tipici della nostra enogastronomia. Quindi un progetto che da un lato promuove una proposta di tipo turistica che però non è il classico aperitivo ma che vuole focalizzarsi per promuovere anche un'eccellenza mondiale ma che nasce nel nostro territorio. Quindi al costo di 18 euro nei locali aderenti si potrà prenotare e degustare un extra Vermut ma tutte le sere qua al Salone del Gusto attraverso il sito di Camera di Commercio ci si potrà prenotare e iscrivere e provare in anteprima questa bellissima esperienza ma è proposta turistica che da ormai un anno e mezzo noi stiamo promuovendo.